Cosa è una convenzione di trasporti marittimi che prevede la continuità territoriale all'interno del Mediterraneo? Quali sono i vantaggi, quali gli svantaggi e quali possono essere le opportunità da cogliere? Se ne è parlato in un convegno a Cagliari organizzato da Onorato Armatori. La convenzione stipulata con lo Stato che prevede il trasporto dei passeggeri in regime di continuità territoriale dalla Sardegna verso il continente è alla sua scadenza. Per questo i vertici di Onorato Armatori hanno presentato una relazione curata da The European House Ambrosetti che mette in evidenza i punti di forza e le criticità. Oggi abbiamo presentato un importante documento, un documento di trasparenza e un documento volto a far capire che cos'è la convenzione. Lungi da noi avere la pretesa e la presunzione di voler dettare le linee di una nuova convenzione ma oggi abbiamo voluto portare un documento all'attenzione della popolazione, dei principali stakeholder in modo che possano essere prese le migliori decisioni per assicurare la continuità territoriale sulla nostra isola. L'evento ha dato la possibilità da Chilio Onorato, amministratore delegato, di sottolineare uno spiacevole episodio che si è concluso positivamente per la compagnia di navigazione. Nelle ultime settimane il gruppo è stato soggetto di attacchi da parte di alcuni fondi speculativi. Il tribunale di Milano ha rigestato la loro istanza condannandoli anche al pagamento delle spese. La compagnia è solida e guarda avanti con consenità verso il futuro e verso i programmi ambiziosi di nuovi investimenti. Nuovi investimenti che danno la possibilità di allungare la stagione turistica in Sardegna, anche perché parlare di destagionalizzazione diventa davvero importante in un'ottica di completamento del servizio e per offrire all'isola Sarda più opportunità di crescita. La Sardegna è un'isola che può lavorare forse non 12 mesi ma sicuramente 9-10 mesi l'anno. Ha un mare che è incredibile, un'entotera che è incredibile, ha un clima che è favorevole e ha tutto ciò che può servire per attrarre un tipo di turismo che non è solamente quello mordi e fuggi dei tre mesi estivi, ma è un turismo anche più di qualità che si concentra tutto l'anno. La Sardegna può essere protagonista di questo, noi vogliamo renderci attori, partecipi in prima linea con le istituzioni per fare in modo che la Sardegna viva almeno non 12 mesi l'anno ma diciamo 10.